Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di Calenda che ha fatto la scissione, è uscito dal PD, se ne è andato abbastanza schifato dell'alleanza del PD con i 5 Stelle, è a ragione e questo lo ha premiato perché, a differenza di Renzi, che si è bruciato, nel senso che non gli crede più nessuno ed è palese, l'operazione macchiavellica che ha fatto per far creare un governo per poi farlo cadere, ma non c'è poi riuscito, per meri interessi personali, Calenda, agli occhi degli elettori è sembrato molto, ma molto, ma molto più sincero. Quindi lascia il PD, fonda il suo partito Azione, deposita il marchio e parte proprio il 21 di novembre, non sono passati 15 giorni e già nei sondaggi ha più del 3%, il 3,3% e ha quasi raggiunto e sorpassato Matteo Salvini che è sceso al 3,5% per i guai, chiamiamoli guai, problemi delle inchieste che stanno conducendo i magistrati di Firenze proprio contro la sua ex fondazione open e contro, stanno indagando sul prestito che ha ricevuto per la casa, che poi ha restituito, stanno indagando se quel prestito è stato elargito in cambio di qualche favore. Tutto questo ha fatto sì che una grandissima parte del suo elettorato, più del 40%, perché lui in alcuni sondaggi era dato anche al 6, 6,5%, gran parte del suo potenziale elettorato ha deciso che forse non era più il caso dare il loro voto teorico ancora a Matteo Renzi e stanno cambiando, forse proprio per Calenda. E Calenda comunque ha dimostrato invece di andar via dal PD proprio perché schifato, senza nessun gioco macchiavellico come Renzi, senza puntare alla presidenza del Consiglio, chissà quale obiettivo eclatante, ma ha aperto il suo partito e risulta comunque un uomo che ha il suo carattere forte e determinato. Sicuramente se il PD in questo momento l'avesse avuto lui come segretario, non Zingaretti, che sembra più che altro un segretario ombra, sempre nascosto, sempre schivo, sembra che non vuole problemi, lui dice che il vero capo non deve sbattere i pugni, il vero capo non deve alzare la voce. Sì, ha ragione, è così, però il vero capo non grida, non alza la voce, ma è presente. Lui potrebbe essere anche presente senza gridare, sbattere i pugni, ma dando le sue opinioni sempre e tutti i giorni, invece no, invece no, è quasi completamente inesistente. Mentre Calenda è uno che dice le cose in faccia, ed è un Calenda contro tutti perché è un Calenda contro centrosinistra e contro Renzi, contro Movimento 5 Stelle, contro e il centrodestra. È un Calenda contro tutti e adesso se l'è presa con Salvini e Meloni e dice, scrive su Twitter, non lavorano, non si preparano, non propongono soluzioni, vivono di Cagnara. Ma lui Calenda adesso è onnipresente, sta sui social, nelle televisioni, attacca tutti a testa bassa e probabilmente l'elettorato lo premierà perché comunque è una persona che sa il fatto suo. E comunque tra un'ospitata televisiva e un post lui non smette mai di scrivere comunque commenti, di scrivere battute, di commentare questo e quel fatto, di criticare e replicare. Se serve anche con toni aspri e questo per aumentare il suo elettorato, il suo consenso. E Calenda ha rubato voti al PD, a Italia Viva e dicono anche a Forza Italia, nonostante Forza Italia, stia comunque recuperando nei consensi. Ma la sua missione è combattere i populisti, i sovranisti e per combattere lui utilizza il suo smartphone, il suo cellulare, l'arma mediatica per raccimolare, raccattare consensi. E Calenda parla delle polemiche sul bella ciao cantato da Gentiloni e gli altri commissari in quel tristissimo video veramente grottesco. E lui scrive a tutti quelli che si accingono a rispondere a Salvini e Meloni sui commissari che cantano bella ciao, vogliono iniziare un'altra polemica sul nulla. Ricordare sempre senza polemiche, non esistono, non lavorano, non si preparano, non propongono soluzioni, vivono di cagnara. Beh, qui la storia del bella ciao cantata da Gentiloni e gli altri socialisti in Europa è tristissimo. Qui non c'è bisogno, non è che Salvini e Meloni vivono sulle polemiche sul nulla. Salvini e Meloni hanno i loro programmi e come se hanno i loro programmi, anche se Calenda, Zingaretti continuano a dire che non li hanno, ce li hanno e come? E' proprio il PD che Calenda ne è uscito perché era un partito vuoto, senza programmi. E Calenda sa perfettamente che deve proporre, fare, dire come Meloni e come Salvini. Quindi dire che gli altri, quelli dall'altra parte, non hanno nulla, non hanno da dire nulla, non si preparano, non propongono soluzioni, non lavorano. Questo è falso. Vivono di cagnara, non è vero. La cagnara la fanno intorno a loro gli odiatori che sono anche abbastanza tantini, sono parecchi. Calenda poi ne dice un'altra, dice beh, l'unico modo per gestire i Cinque Stelle è cancellarli. E lo dice parlando proprio di Luigi Di Maio e di come ha gestito, secondo lui, il meccanismo europeo di stabilità, quel famoso MES che si dovrà poi ratificare o no e gli potrebbe cadere il governo. E qui Calenda dice che Di Maio l'ha gestito proprio male. E così si rivolge proprio agli ex amici o amici ancora amici del PD e gli dice guardate che l'unico modo per gestire, andare d'accordo con i Cinque Stelle è cancellarli. E lo dice proprio al Teatro Eliseo a Roma durante un'iniziativa del suo nuovo partito Azione. Calenda dice non si può fare un'alleanza con i Cinque Stelle e con poi Di Maio che vi dice a voi del PD mi fate schifo. Voi dovete rispondere al capo dei grillini mi fai schifo tu, andiamo alle elezioni e vi cancelliamo. E poi fa capire che il comportamento di Di Maio è uguale a quello di Salvini, tutti e due erano presenti prima, quindi perché adesso mi vengono a dire l'opposto? Beh, qui c'è da dire che Salvini con la Lega è sempre stato contro questo meccanismo di stabilità. Salvini lo ha sempre osteggiato e proprio aveva anche scritto ai suoi deputati e senatori nella chat privata loro non firmate niente, non voteremo nulla, il MES non passerà. Ma Conte e Calenda e gli altri raccontano tutti un'altra storia, però è una storia che non è reale. Poi parlando di Roma parla che c'è un sindaco incapace e che sicuramente questo governo 5 Stelle PD non è capace di risolvere l'Ilva, l'Italia, figuriamoci se possono poi risollevare la capitale. E poi ribadisce che lui non intende candidarsi per sindaco di Roma. Le sue ambizioni naturalmente sono più in alto, sono più alte che fare il sindaco di Roma. Poi precisa che lo spazio di manovra di Azione, il suo nuovo partito, è diverso da quello di Italia Viva. Lui dice che la motivazione sta nel fatto che Azione ha deciso di non stare al governo con i 5 Stelle, mentre Matteo Renzi è stato un promotore dell'attuale governo. Purtroppo siamo soli su questa posizione antipopulista e antisovranista, conclude Calenda. Abbiamo poco a che vedere con il PD e con Italia Viva, ma per scelta loro, dice Calenda. Questo fa capire che lui non avrebbe mai fondato un altro partito se il PD e Italia Viva non avessero fatto questa mostruosa alleanza con i 5 Stelle, quindi lui è stato coerente. Lui aveva detto mai con i 5 Stelle, mai con Salvini, hanno fatto il governo e lui se n'è andato, è stato un uomo coerente, senza dubbio. Poi c'è anche una polemica su il logo del suo partito, quella stilizzata, l'avete visto? Non vi ricorda qualcosa? E dicono che sarebbe copiato da quello degli Avenger, no? Inoltre la pagina Facebook del movimento politico ha già superato intanto i 30.000 sostenitori. Come è possibile? Era la vecchia pagina di Siamo Europei che è stata riutilizzata per portare un po' di fans. Quindi la pagina di Siamo Europei, gli è stato cambiato il nome e così magicamente sono spuntati 30.000 fans, perché in 15 giorni 30.000 fans per un nuovo partito politico è decisamente difficile. Quindi il logo che assomiglierebbe a quello degli Avengeri, leggendari supereroi reclutati da un'agenzia governativa, segreta per combattere un nemico inatteso che minaccia la sicurezza della terra. E infatti molti che sono iscritti a quella pagina o che erano già iscritti prima hanno fatto proprio nei commenti notare l'incredibile somiglianza dei due loghi. Macalenda dice il mio partito è una proposta per scegliere un partito giusto, non il male minore. Con la logica che io voto quel partito perché è il male minore, io voto quell'altro perché secondo me quell'altro è il male minore. Tra diversi mali scelgo quello meno critico. Lui dice basta scegliere il male minore, scegliete azione che è il partito giusto. Poi lui dice che la struttura comunque del suo partito, come tutti gli altri partiti, avrà degli organi democratici, un congresso che si celebrerà a giugno e poi aggiunge io non voglio fare un partitino, se rimane un partitino io lo vado a chiudere, cioè lo sciolgo. E per concludere dice che azione in Emilia Romagna sosterrà il governatore uscente Bonaccini delle PD solo se Bonaccini non si alleerà con i 5 stelle. E poi fa una frecciatina dice noi comunque consideriamo il male assoluto i 5 stelle come Salvini. Chissà perché quest'ultima affermazione, forse visto che si dice che Salvini e Di Maio si stanno riavvicinando, quindi forse una frecciatina al veleno per Salvini o forse no. Intanto Calenda in televisione parla anche di quando lui era ministro nel governo Renzi e dice che lo prendevamo in giro da morire quel Renzi lì, però a bassa voce perché lui è piuttosto vendicativo. E così con questo aneddoto chiudiamo questo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie dove ci sono tutti gli stessi video che trovate su YouTube e li potete assolutamente condividere con chi volete ovunque in internet e fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.